Tra i vari cantieri di prossimo avvio da parte dei servizi forestali e regionali c'è anche quello sul rio La Palletta in località La Rossa a Belluno, dove i tecnici regionali in giornata hanno compiuto gli ultimi rilievi prima dell'intervento. Un nuovo intervento di sistemazione del corso d'acqua, in questo caso La Palletta, un piccolo rio in località La Rossa in comune di Belluno, che aveva subito dei danneggiamenti in occasione della tempesta avaria. In questo caso i servizi forestali hanno appena concluso i sopralluoghi, a breve ci sarà l'approvazione del progetto e io spero che già in autunno inoltrato si riesca a partire con questa opera di consolidamento dell'argine in destra orografica, in modo particolare. Qualora non sia possibile perché il tempo non lo consenta, nei primi mesi dell'anno 2020 sicuramente partirà anche questo cantiere.